salve amici a chi è che non è mai capitato che una una ciabatta all'improvviso non funziona più e ci accorgiamo che che non possiamo andare ad aprirla per vedere che è successo perché c'ha delle viti stranissime no sembrano un po la punta di un cacciavite a croce ecco io adesso vi faccio vedere come ho risolto questo problema per svitare queste vite senza rompere la ciabatta ok useremo una semplice vite a croce di queste qui classiche a legno come vedete la dovremo andare a molare tutto intorno per fare in modo che entri nei nei fori della ciabatta ecco come vedete non c'entrano il problema è solo quello poi dopo useremo un trapano un avvitatore e la svitiamo allora io per molare la vite c'ho il frullinetto perché sto al garage ho parecchie trezetti insomma e lo faccio così ovviamente capisco che non è che tutti quanti a casa c'abbiamo frullino però basta anche una mola basta andare per esempio da un amico meccanico con la vite in mano e chiedergli se ve la mola oppure lo fate stesso voi sulla mola sua ok quindi questo è solo per farvi capire per darvi l'input vediamo ok la vita adesso è questa entra qua ci aggancia pure adesso la mettiamo al posto della punta sull'avvitatore ok vediamo e voilà legge sonfe possiamo riparare la nostra ciao a te adesso dopo guarderò che c'è se non c'avete l'avvitatore basta pure un semplice pezzo di legno qualsiasi cosa un pezzo di manico di scopa quello che volete voi prendete la vite ce l'avvitate fate così tanto semplice tanto il legno ok dopo di che potete andare a usarlo come un cacciavite ecco io la riavvito con questa invece che col trapano è uguale oppure per svitare va bene ok è che nella vita bisogna arrangiarsi bye bye